Sera, c'è Manoè? Oggi è Natale, oh! Ma non c'è tutto quanto? Eh, ma non c'è tutto quanto? No, 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 perché non è certe, non va. Vanno uscita tutto quanto? Chi è più? Non c'è chi le dice? Chi è più? Chi fa sì? Chi è più...? Come vuoi tu? Ci sono lì? Ma non c'è un po' che fa, ragazzi. Ma non c'è più questa, ma non c'è più la pavola. Mi un po' che era lì. Ci troviamo alla Sacra delle Pavole a Tramondi, trazione Figline, Positana News e Adapetta, Pesta delle Piabbe Figline di Tramonti, Positana News, Pesca, 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 P e fine di dramma.